L'amministrazione comunale, come era ormai chiaro, vuole sostenere la candidatura della città ad ospitare il Centro Nazionale di Alta Tecnologia per l'Idrogeno. La concorrenza c'è, non riguarda solo il territorio siciliano. Il governo musumece ha espresso ufficialmente l'intenzione di arrivare alla realizzazione del centro sull'isola. Nel primo pomeriggio di ieri il sindaco Lucio Greco e l'assessore Terenzano Di Stefano hanno incontrato i manager di Eni, vertici di Sicindustria, Caltanissette, sindacati e la deputazione. All'invito però ha risposto solo il deputato regionale Grillino Nuccio Di Paola. Neanche i sindaci dell'area di crisi hanno risposto in maniera convinta. In remoto ha partecipato solo il primo cittadino di Niscemi Massimiliano Conti. I vertici di Eni e quelli di Sicindustria appoggiano la scelta della Giunta. L'eventuale Centro Nazionale per l'Idrogeno rappresenterebbe quasi la chiusura di un cerchio aperto con l'avvio della riconversione green della fabbrica di Contrada Piana del Signore. L'azienda ha però sfruttato il confronto per ritornare a chiedere più celerità nel rilascio delle autorizzazioni. Un punto sul quale i responsabili del cane a 6 zampe ritornano spesso, soprattutto in tema di investimenti. Il deputato a Lars Nuccio Di Paola ha già preannunciato che acquisirà atti e documentazione in regione, anche per avere ulteriori riscontri tecnici sui criteri richiesti dal bando. Il sindacato, c'erano rappresentanti di CISL, UIL e UGL, concorda con le linee generali illustrate dall'amministrazione comunale, anche se saranno necessari nuovi approfondimenti. Secondo il segretario confederale della CISL, Emanuele Gallo, non c'è nulla di scontato, anche perché ci sono tanti territori in Italia che si stanno candidando ad ospitare il centro. In un'area come quella locale, con la presenza di Eni, che ora fa molto affidamento sull'idrogeno, Ci sarebbero però tutte le caratteristiche affinché il centro possa trovare una sede. Il tavolo verrà riproposto, magari con ulteriori riscontri tecnici e pratici, legati alla partecipazione all'avviso lanciato dalla regione. L'amministrazione comunque vuol proseguire il percorso per tentare di arrivare proprio al centro nazionale per l'idrogeno.